C'è un vecchio detto cinese che recita così Occupati delle radici, le foglie e i rami si prenderanno cura da sé Questo filosofo tantissimi secoli fa scriveva questa frase Si chiamava Confucio e abbiamo voluto recuperarla perché parla di una cosa fondamentale Ovvero le radici, le radici sono quelle cose che tengono attaccate un popolo alla propria terra E la festa della Bruna è una di queste, forse la radice per eccellenza per i materani E quest'anno noi a proposito di radici vogliamo parlare non soltanto ai materani Ma anche a tutti i materani che vivono nel mondo E che molto spesso il 2 luglio non possono vivere la giornata direttamente per le vie della città Ma soprattutto non possono vivere non solo il 2 luglio e quindi la festa della Bruna Ma anche tutto ciò che c'è dietro la festa della Bruna in termini di preparazione E dietro la festa della Bruna c'è tantissimo, un bagaglio di emozioni, un bagaglio di sensazioni Un bagaglio umano che è fatto di gente che la festa la costruisce lavorandoci tutto l'anno Ecco a tutto questo noi vogliamo dar voce con Matera 2 luglio Il mondo nella festa, rivolgendosi al mondo ma raccontando al mondo quello che è il mondo nella festa Lo abbiamo fatto per 10 giorni attraverso il web su Basilicata Media che è la prima web tv dedicata ai lucani nel mondo E lo faremo in queste tre serate per cercare di farvi calare in questa magica atmosfera di festa E lo facciamo grazie alla collaborazione di associazioni importanti per la festa della Bruna Come gli Angeli del Carro, come CD Stable ovvero il team dell'Auriga Come i Cavalieri di Maria Santissima della Bruna Tutti loro saranno protagonisti nell'arco di queste serate qui dalla sede degli Angeli del Carro Ma anche con la collaborazione storica e di ricerca dell'associazione Ergio Un'associazione giovane in termini anagrafici che però ha tanto scoperto e tanto ancora da scoprire In merito a questa meravigliosa tradizione ma anche a tantissime altre tradizioni materane E noi ci occuperemo in ogni puntata di un tema E stasera parleremo di quello che è l'oggetto artistico enorme per eccellenza della festa della Bruna Che è il carro trionfale Ebbene il carro trionfale chi conosce la festa sa che viene trainato da animali possenti Che sono appunto i muli E a questo proposito, non perché voglia assimilarlo a un mulo assolutamente lungi da me Devo coinvolgere un altro compagno di viaggio Che per quanto mi riguarda è il compagno di viaggio da tantissimi anni Che è Saverio Pepe Che in realtà dovrebbe essere in collegamento con i muli Ma non lo vedo Io non so ancora dove stia Ma Saverio dove sei? Per favore Fatti vivo Dove sei? Sergio sto arrivando, stiamo arrivando Sono qua con Catalana e Alzana Sono due amiche che ho conosciuto Con le quali sto intrattenendo un dialogo anche di un certo livello Fai sentire Catalana Fai sentire Sempre caro mi fu qua estermo Qua estermo Non guardare così Dillo tu Alzana Qua estermo qua Qua estermo qua Vabbè, dacci il tempo di arrivare Sergio Andiamo ragazze, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo che c'è la tradizione Stiamo arrivando Sergio Ma due, tre, cinque, massimo due ore Stiamo dalla buona Massimo, non di più Ma te lo do il tempo di arrivare Adesso ti scorgerò tra un po' Come un ermocolle Come dicevi qualche istante fa Con questa citazione coltissima Ma nel frattempo Prima di iniziare queste tre serate di festa Con i muli del team dell'Auriga Dino Chiefa Noi guardiamo insieme La sigla di Matera 2 Luglio Il mondo nella festa E allora Abbiamo visto insieme la sigla Abbiamo iniziato ufficialmente Io ho detto subito Che stasera ci sarebbe stata Come in tutte queste serate Come negli altri report Che abbiamo visto nelle giornate precedenti La collaborazione dell'Associazione Ergio L'Associazione Ergio Che è rappresentata Da un altro compagno di viaggio Una spiga vacante come me Che è Gabriele Chiancone Buonasera Gabriele Buonasera a tutti ragazzi Buonasera Io sono emozionato Non so tu Abbastanza, abbastanza Sento le farfalle nello stomaco E non è ancora 2 Luglio Dobbiamo ancora iniziare Però Sergio l'aria è quella Sì sì Infatti l'atmosfera è quella di festa Io dicevo Volevamo ricreare l'atmosfera di festa Ce l'abbiamo fatta Penso di sì Penso di sì Dai Senti dicevo Gabriele Noi nell'arco di queste serate Parleremo di vari temi Che riguardano la festa Stasera però Ci soffermiamo su quello che è Il manufatto per eccellenza Legato alla festa E che è il carro della Bruna Che negli anni Ha un po' segnato anche L'evoluzione della festa Certo assolutamente Non so quanti di voi Sanno che il carro della Bruna In realtà si costruisce Da un tempo relativamente recente E dalle Le prime notizie Ce le abbiamo dal 690 1690 E un'altra curiosità È quella che il carro Non si è sempre rotto Lo strazzo è una cosa Ah no Eh no Lo strazzo è un'altra cosa Che è avvenuta In tempi relativamente recenti E che facevano Scusa lo conservavano Hanno fatto di tutto Nel corso della storia Il carro all'inizio Era di carta Solo di carta E veniva solo aggiustato Perché le strade Erano di terra Quindi il carro Con le vibrazioni Si smontava Qualcosa si strappava E quindi lo rifacevano Manutenzione Facevano solo manutenzione Alla fine del 790 Ad esempio Uscivano due carri Uno la mattina Aveva dei musicanti sopra Che cantavano L'altro usciva di pomeriggio E aveva dei fuochi d'artificio Il carro Si veniva fatto Diciamo saltare in aria Con dei fuochi d'artificio Cioè avevano delle costruzioni Particolari Che facevano in modo Che durante la traversata Del carro Si accendevano Questi fuochi Addirittura Scopro cose nuove E queste cose Non le ho inventate io Non le ho inventate Neanche qualcun altro Ma le ha scritte Un arcivescovo Durante la fine del 700 Precisamente nel 1787 E quando hanno iniziato Poi a romperlo il carro? In realtà non c'è una data precisa Lo strazzo del carro È una di quelle cose Che circondano la Bruna E che è avvolta ancora nel mistero Però Grazie alla collaborazione Di tanti studiosi Arriveremo a scoprire Il perché C'è questo strazzo C'è questa cosa Quest'assalto a carro Beh insomma Avete visto quante cose Abbiamo da raccontarvi Questa è la L'appuntamento Diciamo con Con Erghiò Che avremo ogni sera Ma Gabriele sarà Compagno di viaggio Al pari di Saverio Ma non saranno gli unici In queste In queste serate Serate che saranno Poi accompagnate Da tanti elementi Riguardanti la festa Umani e non E anche animali Perché io So che Secondo me Io non so se tu sai Che Saverio Sta arrivando Bardato da muli Sì che bello E allora i muli Sono arrivati Ma c'è una sorpresa Quindi iniziamo subito Con le sorprese E chiamiamo qui Antonio Di Lena Buonasera Antonio tu sei Il vice trombettiere Se non sbaglio Diciamola così Sì il vice trombettiere Quindi iniziamo Alla grande Con il botto Con lo squillo di tromba E allora ascoltiamo Gli squilli di tromba E così salutiamo I muli Della Bruna Ed è subito festa E sono razzoletto Il corno Sarrazzoletto E allora Credo che stiano arrivando I muli Li sento accompagnati Da altra musica Dove sei? Dove siete? Con le mani Ani tutti Ehi era un extended version una versione remix che con l'estate parto di pezzi la discoteca loro arrivano da lontano da molto lontano ovvero da Montescaglioso da Montescaglioso ragazzi facciamo un altro applauso fortissimo ma Sergio io ora ero laggiù no? sì ti ho visto sull'Ermocolle sull'Ermocolle mica ci sono riuscito quando si dice il mulo va bene siamo arrivati qua ma loro hanno visto che i muli sono bellissimi ma sono dei mulacchioni come si dice in questi casi ma mai mi sarei aspettato di trovare tutta questa abbiamo la prima domanda la prima domanda abbiamo la prima domanda è anche come dobbiamo iniziare domanda dal pubblico di Cristina Cristina allora voglio sapere uno i muli in che ordine stanno un ordine casuale di affinità perché noi ci facciamo problemi ad andare insieme ad una persona che non sopportiamo figuriamoci i muli i nomi dei muli cosa fanno i muli durante le giornate che non sono il tuo luce cosa mangiano se c'hanno una ho capito ma tutto nuovo vuoi sapere è un'altra domanda non è sui muli ma è stile Palomba piacere Cristina Cristina Curiosa piacere Cristina Curiosa ma chi è? no intanto ha fatto delle domande dovrei rispondere io in qualità di guru ma avendo i protagonisti dei muli cara Cristina Curiosa io quasi quasi chiederei a esatto esatto dov'è dov'è Vito Chiefa dov'è vieni vieni buonasera Vito buonasera a tutti applausi per Vito Chiefa è il suo staff è i suoi amici esatto cioè questa questa soprattutto soprattutto il mio staff perché ci dà una grande mano siamo tutti uniti per questo giorno che attendiamo sempre tutto l'anno questo è il CD Stable è così? la nostra azienda è chiamata così CD Stable sì è la nostra e voi lavorate diciamo tutto l'anno perché si possa sì lavoriamo tutto l'anno con questi muli ce ne prendiamo cura siamo la maggior parte del tempo con loro proprio per ristaurare questo rapporto per non aver problemi il giorno della festa perché comunque è una festa dove c'è molto movimento sai comunque i muli potrebbero toaventarsi quindi noi dobbiamo creare un feeling con l'animale proprio per stare tranquilli in quel momento lì allo strappo dai diciamo così c'è un rapporto diciamo molto molto profondo intenso sì molto intenso tra noi e loro Sergio scusami no certo Pepe no no infatti ha fatto praticamente tutto lei l'intervista vai qualcuno chiedeva c'è un ordine dei muli c'è nel senso c'è una una sequenza precisa della disposizione dei muli perfetto una sequenza precisa nella disposizione dei muli oggi noi qui abbiamo portato le nostre due mule del timone che sono le nostre mule con più esperienza rispetto a tutte le altre loro sono quelle che vengono attaccate sotto il carro per dare la direzione giusta sono delle mule che non hanno paura non si spostano perché facendo il passaggio comunque da sotto l'arco dobbiamo stare attenti ai centimetri che abbiamo a disposizione ecco perché dobbiamo essere molto precisi nell'effettuare questa manovra e questa era la prima domanda la seconda che ha fatto è che che fanno i muli allora il 2 luglio va bene sono impegnate con il carro sono i muli le mule sono impegnate con il carro ma nel resto dell'anno questi muli come sono impiegati che fanno nel resto dell'anno questi muli fanno una bella vita diciamo così sono in vacanza sono in vacanza sì sono in vacanza e aspettano ogni anno la festa della Bruna per lavorare un po' tra virgolette perché non è più come una volta adesso che prima si lavorava con i muli sai come nei campi di una volta quindi fanno i signori questi muli questi muli sono trattati benissimi benissimi siamo contenti di questo a favore di tutti i nomi dei muli i nomi dei muli questi due muli qui la prima Vito questa si chiama Alzana ed è una mula vieni vieni porta anche Catalana Aslana e Catalana signori del pubblico facciamo un applauso per l'Aslana e Catalana due mule meravigliose bellissime non conoscono l'infinito di Leopardi perché l'abbiamo testato prima e Colle abbiamo fatto conoscono la festa molto bene ma sono muli come fanno a conosci i Leopardi vado via comunque dai stavo dicendo allora l'ordine delle mule come dicevo prima queste sono le mule che vanno al timone dopo vengono messe altre due mule che vanno al bilancino e poi seguendo avanti ancora altre due coppie quelle coppie lì ci aiutano per tutto il tragitto fino ad arrivare sulla cattedrale ci aiutano a fare ci aiutano a fare i tre giri e dopo noi stacchiamo quattro muli e con solo quattro muni Alzana e Catalana e altre due mule che non potevo portare qui stasera andiamo alla rottura sono le quattro mule più con l'esperienza rispetto agli altri beh allora vogliamo ringraziare Vito per averci portato presentiamo il team presentiamo il team per favore perché c'è bisogno lui è mio cucino abbiamo cominciato insieme questa cosa con i nostri padri con mio padre che è Lauriga e con suo padre che è mio zio e abbiamo creato questo gruppo prima noi solo quattro e poi abbiamo creato questo gruppo meraviglioso quanti siete? siamo 23 ragazzi 23 ragazzi quest'anno abbiamo fatto una bella squadra perché ci vuole una grande mano dobbiamo fare una grande festa e quindi ci vuole aiuto allora io direi di rinnovare l'applauso anche per la pazienza di aver portato fino qua nella casa degli angeli del carro queste due mule meravigliose che avete sentito sono le protagoniste del passaggio sotto l'arco del carro e soprattutto sono educate e hanno l'esperienza giusta per obbedire ai comandi per andare allo strappo per andare fino allo strappo fino a Piazza Vittorio Veneto bene e allora noi vi ringraziamo per la partecipazione insomma non è facile arrivare fin qui noi siamo nel quartiere di Serrarifusa qui a Matera nella sede degli angeli del carro chiudiamo con un po' di music della bassa musica della città di Montescaglioso e allora Materani a Serrarifusa Materani in Italia Materani nel mondo Lucani nel mondo questi sono gli squilli di tromba della festa della Bruna Antonio vai sto registrando comunque sto registrando comunque grazie grazie Antonio ci ritroveremo ovviamente nel corso delle prossime serate io vi accompagno all'interno di questa sede degli angeli del carro che hanno cortesemente condiviso con noi per queste serate perché quando si parla di carro della Bruna si parla a Matera di una tradizione che è enorme e sconfinata fatta di grandi nomi fatta di grandi maestri che purtroppo non ci sono più ma che hanno fatto la storia e questa storia è una storia che vede eredi i figli i nipoti come nel caso di Michelangelo Pentasuglia come nel caso di Francesco Nicoletti come nel caso di Vito Epifania che con suo fratello Raffaele costituisce proprio la triade in termini di cognome dei cartapestai materani e allora saluto a partire dalla mia destra Teresa Pentasuglia e poi buonasera Teresa poi abbiamo Anna Paola e Brunella Epifania Concetta Nicoletti e Vito Epifania che appunto sono venuti a raccontarci e li ringraziamo di questa della familiarità con l'arte della cartapesta ma per te questo questo momento questo periodo in cui si inizia a vivere questa atmosfera di festa che cosa rappresenta? Io sono già nella festa perché già appena vedo i pali delle illuminazioni in centro per me è già festa il mio ricordo va a mio nonno Mestre Ciccil e poi mio padre già dal momento in cui mio nonno mio padre mettevano già appunto il bozzetto oppure cominciavano a a porre il primo chiodo sullo scheletro massiccio Brunella questo momento tu come lo vivi? anche io ricordo con questa la preparazione delle diciamo delle illuminazioni quindi già questa preparazione ti faceva entrare in questa atmosfera di festa e poi il mio ricordo è sempre legato praticamente al giorno della festa che noi lo vivevamo con tutta la famiglia a casa di mio nonno che la sua casa era proprio a piazza sedile quindi quei balconi che affacciavano sul il punto principale del passaggio del carro e noi tutti i bambini ragazzini su questi balconi che seguivamo insomma il carro in ed era diciamo un'emozione molto particolare per noi Anna Paola sono ricordi che poi nel tempo sono stati trasmessi diciamo a livello familiare da nonni nipoti figli certo io di mio nonno conservo proprio perché come abbiamo detto eravamo piccole all'epoca in cui lui era operativo e attivo nella lavorazione del carro di lui conservo invece un ricordo nella sua età avanzata è un ricordo nostalgico durante i pranzi che si facevano a casa lui amava raccontarci gli aneddoti legati alla sua giovinezza alla sua arte e lo diceva sempre con quella vena di malinconia fino alla commozione e un'altra cosa che io conservo di mio nonno è il ricordo delle sue mani delle mani ormai affusolate aggrinzite tremolanti e io ero affascinata dalle sue mani perché attraverso le sue mani io immaginavo le storie che potevano raccontare e soprattutto l'arte spontanea perché poi come tutti gli artisti dell'epoca non avevano studi artistici era proprio una dote innata che loro perseveravano rendendo mettendo la disposizione della collettività materana grazie concetta il primo carro mio padre l'ha fatto a 21 anni con mio nonno Pasquale nel 46 subito dopo guerra la festa fu ferma per tre anni e poi il 46 chiesero sia a mio nonno che mio padre ve la sentite di fare il carro mio nonno era titubante mio padre sai aveva venturani la voglio fare la voglio fare è un lavoro comunque provante mio padre diceva che chi voleva fare il carro ed era un po' appesantito basta che faceva il carro mio padre dimagriva quei 15 chili partiva con 85 e mi diceva no guarda che non è necessario metterti a dietro perché vieni a fare il carro io poiché sono la negazione del disegno perché è proprio zero cioè vieni a fare il carro e dimagrisci ed è vero perché tu sali e scendevi la preoccupazione la tensione l'emozione perché lui diceva io se non mi emoziono non ho quella adrenalina non riesco non riesco proprio a fare niente ed è quello che caratterizzava poi il tutto e anche l'artista in sé Vito quella casa di piazza sedile di cui parlava prima tua cugina è legata a tanti ricordi ed è la casa in cui oggi vivi tu quindi come dire hai una responsabilità enorme che ricordi hai? Croce delizia beh allora ho citato i balconi i balconi di casa sono sempre stati il luogo in cui poi si passava l'intero pomeriggio e gran parte della serata fino a si usciva per andare a vedere i fuochi sostanzialmente devo dire che una cosa importante è un privilegio che ho avuto e sarebbe fatto che poi io ho vissuto con mio nonno in quella casa piazza del sedile è sempre stato questo riferimento come dire il luogo il microcosmo di una serie di incontri di relazioni il cavaliere che veniva a lasciare la lancia dopo quando il carro saliva in cattedrale la gente che chiedeva ospitalità per vari bisogni e necessità il momento di festa che si respirava dal mattino presto perché ovviamente anche la processione dei pastori passa da piazza del sedile quindi tutto questo sicuramente molto arricchente e stimolante in più il fatto di essere appunto di aver avuto il privilegio di vivere con lui in casa per tanti anni mi ha consentito di respirare anche l'odore dei colori di vedere la tavolozza impregnata di porgergli qualche pennello qualche attrezzo quando nella bottega nel negozio che poi ha tenuto fino a pochi anni prima di diciamo di ammalarsi di diventare troppo anziano lì nel retro bottega ha continuato a fare tanto lavoro e le mani che citava Anna Paola a me hanno sempre colpito perché tremolanti ormai per l'età che aveva però quando prendeva il pennello e un manico di scopa per poggiare la mano sopra per dipingere sulla tela quella mano si fermava si bloccava diventava fermissima io parlerei con voi fino a domani però appunto i tempi incombono e chiedo a Teresa se c'è anche nel tuo caso un aneddoto che ti tiene in qualche modo legata alla figura alla figura paterna ovviamente legato alla festa della Bruno il primo carro che ha fatto mio padre è quello che è stato incendiato e quello è rimasto più che aneddoto è rimasto nella storia perché penso che mio padre in quell'occasione avesse dato era il primo carro e avesse dato tutto se stesso tant'è vero che per me quello rimane forse il carro più bello che abbia mai fatto io che l'ho visto l'ho vissuto ho visto come minuziosamente miscelava quel verde che lui mi fece vedere una volta tirando fuori il carro e mi disse Teresa ho fatto un verde un verde rame guarda che appena arriverà il sole vedrai un colore diverso dal solito quel colore l'ho visto quando è uscito il carro ma l'ho visto bruciacchiato e annerito Concetta chiudiamo con te con un aneddoto a cui sei particolarmente legato l'aneddoto che mio padre non voleva mai tornare a pranzo cenava la sera alle due di notte e quando io lo chiamavo adesso papà ti devo portare a pranzare lui mi diceva assolutamente no e cenava alle perciò poi dimagriva questo motivo perché mangiando solo una volta al giorno e beh certo grazie grazie nel frattempo noi qua stiamo servendo come se non ci fosse un domani abbiamo anche il nostro valido maggiordomo padrone di casa ricordaci il tuo nome Leonardo 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 grazie per farci assaporare tutto ciò che viene preparato all'esterno ma grazie e soprattutto a Teresa Pentasuglia a Brunella Vito e Anna Paola Epifania e a Concetta Nicoletta intanto credo che fuori si stia stia succedendo la qualunque e se l'amore non c'è basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me e vola si sa sarà perché ti amo e vola vola con me e stammi più vicino e se l'amore non c'è ma dimmi dove siamo che te ne frega sarà perché ti amo che te ne frega sarà perché ti amo grazie grazie a tutti facciamo un applauso alla Fratelli Tutti Band ma approfittiamo del fatto che abbiamo da questa parte l'assessore alla cultura tiziana da Oppido il sindaco di Matera Domenico Bernardi Antonio Materdomini vieni vieni venite qua allora io vorrei fare una domanda partendo dal sindaco con il suo permesso assessore mi sposto qua davanti vediamo un po' sindaco come si sta preparando l'amministrazione comunale a questo evento del 2 luglio siamo in fibrillazione tutti gli uffici sono un po' in ansia ci sono conferenze di servizio rispetto a qualche anno fa prima vedevo bellissime foto antiche dei gladiatori oggi è tutto cambiato per fare un evento come la festa della Bruna hai necessità di adeguare norme di sicurezza investire ci sono stati degli accadimenti a Torino nel 2014 hanno cambiato il modo di fare eventi quindi tutti gli uffici ma anche le forze dell'ordine si stanno riunendo con il comune per cercare di coniugare sicurezza e tradizione però l'importante è che la tradizione non sia stravolta quindi stiamo cercando di anche ripristinare i fuochi dove erano devo dire che l'associazione Madonna della Bruna sta facendo un grandissimo lavoro ma anche gli angeli del carro io dedicherei un applauso se mi permettete agli angeli del carro siamo d'accordo spesso si sostituiscono anche alle forze dell'ordine fanno un lavoro per loro naturale ma fondamentale per la sicurezza pure dei cittadini sono d'accordo passo da questa parte adesso Antonio non me ne volere ma c'è l'assessore Tiziana Tiziana Dopido allora come il sindaco ci ha fatto la sua come dire ha posto la sua attenzione sulla sicurezza e sul fatto che la tradizione non deve essere sconvolta ma che l'impianto di sicurezza debba essere debba tutelare tutti quelli che afforano la piatta invece con l'assessorato alla cultura quali iniziative avete messo in campo so che c'è un cartellone legato in qualche modo all'estate di Matera e vorrei che tu ne parlassi sono tantissimi gli eventi buonasera a tutti sono tantissimi gli eventi che porteremo avanti quest'estate sono più di 200 siamo arrivati a 250 oggi ne abbiamo aggiunti altri 5 più 1 6 ogni giorno le aggiungiamo quindi vi invitiamo ad andare sul sito internet del portale turistico comunale che si chiama Matera Welcome lì trovate tutti gli eventi ci sono anche su Facebook poi vari organizzatori mettono le loro locandine però l'evento con la L maiuscola di tutto l'anno è la festa della Bruna quindi ci sono attività eventi che si concentrano nel periodo che va da oggi come vedete fino all'8 luglio tutti legati alla festa patronale tutti bellissimi concetti spettacoli teatrali convegni mostre ovviamente la giornata clou è quella del 2 e come ha detto già il sindaco come amministrazione comunale dialoghiamo continuamente con ieri con il questore andrà tutto benissimo sarà una benissima festa è la 635 edizione viva Maria viva la festa della Bruna allora Antonio Materdomi Antonio io voglio sapere tu tu il 2 luglio per tradizione diciamo io vorrei sapere qual è il ricordo più lontano che Antonio Materdomi ha del giorno del 2 luglio a Matteo proprio scava nella memoria ti invito Antonio ad arrivare a quando eri proprio piccolo piccolo vediamo un po' qual è il primo ricordo che hai vai ti sceglie del microfono grazie buonasera a tutti innanzitutto il primo ricordo è quello di mia nonna dalla parte di mia madre no? che abitava a Piccianello proprio dove il carro esce quando viene tirato fuori dalla fabbrica quindi noi tutti i cugini piccolini eravamo lì sul balcone ad aspettare che il carro venisse tirato fuori quindi è un'emozione bellissima ogni volta ricordare questa cosa qui ricordo anche la mia nonna che si chiamava si chiamava Lucia io innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti tutti gli organizzatori ma soprattutto gli angeli del carro che hanno messo a disposizione questa sede bellissima che loro custodiscono in maniera maniacale pulita e precisa e rendono fruibile anzi sono già arrivati qui Mimmo e Mariano perché loro sono l'anima dell'associazione sono due ragazzi che si impegnano lavorano tantissimo per la nostra città per la nostra comunità e soprattutto per la nostra festa io vorrei aggiungere due cose velocissime quest'anno siamo riusciti non so se avete avete avuto modo di sentirlo siamo riusciti a portare anche il paninaro tra virgolette per i celiaci per le giostre saranno posizionate come ben sapete al casino dragone nel quartiere San Giacomo nel parcheggio di La Nera vicino la chiesa di Sant'Antonio io ripeto ringrazio davvero di cuore Mimmo e Mariano che sono due amici e soprattutto sono due figli della nostra città grazie 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 il plauso agli angeli del carro l'ho fatto anche perché e questo lo sottoscrivo per testimonianza personale sono un momento importante perché sono a un certo punto il raccordo fra l'istituzione e tutti quanti noi e la città e di questo vi ringraziamo grazie ciao a tutti mi chiamo Cristina Carpentieri vivo in Svizzera e sono maestra alle scuole elementari ormai sono dieci anni che sono via da Matera e la mia ultima festa della Bruna risale al 2017 sì il legame che ho però è fortissimo perché comunque ricordi di quando ero bambina sì penso che sia il periodo più bello per la città di Matera e soprattutto per i materani perché si legge il fermento l'agitazione la devozione è bellissimo però la parte che mi manca di più almeno per me è la parte finale sono la parte dei fuochi perché l'energia di tutta quella giornata viene concentrata in quel momento si aspetta il richiamo e poi partono le domande ma si fa non si fanno la corsa a cercare il porso migliore per godersi questa chiusura questa chiusura che racchiude il tutto poi alla fine e quella era la parte che mi piaceva di più in assoluto non so se mai potrò tornare a Matera il 2 luglio se potrò mai rivivere la festa della Bruna però siete lì vivetela anche un po' per me io vi abbraccio forte e un grosso in bocca al lupo ai materani e buon 2 luglio io sono in compagnia della meravigliosa Lia Trivisani buonasera buonasera a tutti sono felicissimo che tu sia qui stasera perché oltre insomma arrivederci siamo amici ed è sempre bello rivederci ma anche perché noi parliamo in particolare ai lucani nel mondo ai materani nel mondo in questo nostro format e poter avere una portavoce della materanità significa risvegliare in loro probabilmente anche delle origini che magari molte volte si sono un po' assopite ma tu questa passione sanguigna per la materanità da dove da dove la la tiri fuori è un amore viscerale cioè non solo per Matera per le tradizioni per la gente per la festa della Bruna è tutto mi piace tutto guarda è una vita che guardo dal di fuori le persone le donne gli uomini mi interiorizzo i loro movimenti mi piace vedere cioè io per esempio da bambina adoravo andare a casa delle amiche mie per vedere le mamme come facevano i servizi cioè le osservavi sei un'attenta osservatrice sì mi piace più facevano i servizi come pulivano a me piaceva un po' superavano a me mi piace come pulivano la cucina come asciugavano le pendoli lo so fare tale e quale cioè potrei fare ognuna di loro cioè è una memoria di ferro perché comunque ti ricordi tutto quello che vedi no l'interiorizzavo ah ok quindi diventa quindi un po' mi sdoppiavo poi giocavo alla mamma facevo come loro e parlavo sempre da sola ah ok perché io ho sempre parlato con me stessa cioè mo i bambini dicono l'amica immaginaria io non ce l'avevo l'amica immaginaria ma che oggi finiscono in psicanalisi invece era tutto normale invece mia madre diceva che ero normale perché io parlavo con tutti e parlavo parlavo facevo pure il prete al mondo sì sì ho fatto pure il prete mia nonna diceva se madonna non è che facciamo peccato non lo fai il prete fai la suona ho detto ma la suona non va alla messa io invece volevo fare la messa e così ero tutti ero tutti e poi ho iniziato ho detto beh visto che parlo sempre da sola ora inizio a parlare alle persone ho iniziato poi a fare teatro e insomma e mo diciamo che la mia vita è quello che mi piace fare di più ovviamente beh insomma il pubblico ti vuole bene significa che riesci a interpretare al meglio quelle che sono le quelle che quello che il come dire il costume popolare delle comunità sì ma guarda secondo me è un affetto reciproco cioè loro sentono che a me piace guardarli anche quando la gente mi ferma per strada io me la studio poi magari a qualcosa che riporterò in qualche spettacolo quando mi fermano per strada dillo allo spettacolo che quel mio marino quel disgraziato così ieri non è voluto uscire e io al prossimo spettacolo se ho l'opportunità la butto dentro diciamo è un bacino inesauribile la società perché poi impari ogni giorno la voglio sono tanti tu quando ne vuoi guarda ci sta poi se vuoi fare battute eccetera hai un popolo intero che ti ispira e racconta quindi non c'è problema non mi stanco mai senti e relativamente alla festa della Bruna che ricordi hai cos'è che hai osservato cos'è che hai maggiormente interiorizzato allora la festa della Bruna mi riporta sempre a mia nonna io la mia infanzia c'era mia nonna che non vedeva l'ora che arrivava la festa della Bruna perché aveva le bancarelle a piccianello praticamente per tre o quattro giorni quindi potevamo andarci quante volte volevamo però anche lì c'era la tecnica no tipo noi andavamo il primo giorno ci facevamo il giro vedevamo i vestiti che ci piacevano quando dicevo no non me lo come no devi aspettare c'era la strategia precisa e c'era la strategia che tu dovevi andare l'ultimo giorno perché secondo lei se la bancarella non l'aveva venduta quella cosa la doveva dare a minor prezzo c'era quello che oggi si chiama fuori tutto diciamo sì no ma non si può manca trattare con quel del mercato ti dicono i prezzi tu pensi un'assurdità hanno scritto prezzo fisso cioè intalleva proprio lo sfilo di fare capire la contrattazione ti chiamavano ma non ti chiamano più poi ti fanno andare tanto arrivano gli altri prima mia nonna andava l'ultimo giorno e diceva principale te lo ricordi oggi a quando me lo dai proprio a sfregio se non l'hai venduto me lo devi dare almeno alla metà e quasi sempre ci beccava prendendolo a sfinimento però immagino a sfinimento perché andavamo tutti già ci facevamo vedere e quel diceva fino alla fine se lo compriva l'ultimo giorno lo comprava quando lo vendevano quello è il rischio del mestiere non poteva fare niente oltre le bancarelle sì poi c'erano le bancarelle quelle a in via Rosselli che lo sai che non ricordo dove stavano prima in via non c'era te cioè dietro la villa mi ricordo che c'erano gli animali perché mio padre mi comprò nell'ottanta uno scimpanzè addirittura gli scimpanzè sì una bertuccia io nell'ottanta avevo una bertuccia c'erano gli animali quelli esotici ma non si possono vendere manco qua sevano le paparelle colorati pur colorati non l'abbiamo mai capito se li coloravano una alla volta o direttamente nella pancia della gallina però tutti noi bambini ce ne andavamo col pulcino o la paparella che poi dopo un mesetto spariva non si sapeva che fine faceva quello era un investimento spariva e poi col pallone che però non c'erano i palloni di mo Winnie Pooh quel fros erano molto più semplici molto più ce ne erano tre quello lungo 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 che noi lo chiamavamo il bruco il bruco è vero perché aveva poi questa forma un po' a bruco effettivamente la testa sopra poi c'era quello con le orecchie il coniglio e poi c'era quello classico rotondo che non si poteva comprare l'ultimo giorno perché? se non si dava fastidio e si imbizzarri i cavalli quindi quel tu lo potevi prendere il primo secondo giorno insieme alle noccioline ti potevi prendere pure il prucino oppure il pesciolino il pesce rosso il pesce rosso ricordo che si menavano come si chiama ma noi in gas eravamo tutti i tappi uno zio avevamo altro e ce lo portavamo appresso che là ti dovevi sporgere dovevi menare quella pallina da ping pong e quello lo facevi il primo il secondo giorno poi c'era la pistola ad acqua così quelli erano i giochi e nelle banche scusa aspetta l'ho detto ho fatto ecco di 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 ho parlato da parla allora poi stavano che si ricorderanno così i lucani nel mondo capace che si ricordano e si ritira ci stavano in via lo sale quelli che vendevano gli strofinacci le cose mo ci sono quelli 2.0 si primi invece facevano signora signora con il microfono signora il microfono qua signora volete la patata e tieni la patata volete la zucchina e tieni la zucchina trittavano tutto e stavano quelli ma ditemi voi se non ve li ricordate quelli che menavano i piatti sopra le cose i piatti signora patata che se tu passavi là la scorduna che non li avevi la joccia come si è sentito e noi rimanavamo là le ore era uno spettacolo era uno spettacolo come circa la equestria tu stavi là che facevano e tu te lo godivi è bugito lo ricordi assolutamente mi ricordo di più quello che vendeva le pasticche miracolose a Meluc all'angolo tra via annunziatelle e via Giolitti fantastico pur se non servivano a niente se li compravano tutti perché andavano di moda stava là e poi stava quel col pappagallo che suonava l'organetto l'organetto era bello pure prima ma è bello però prima ma poi mica stavate solo alle bancarelle giusto per sapere poi alla mia nonna era fobica si strommava di tutto allora gli spar la mattina li sentivano da lontano ah vedi sono arrivata a bottiglione ah vedi sono arrivata a picciare perché aveva paura quindi dicevo sentiamole da casa poi dovevamo andare a vedere il carro attento che c'è troppa gente poi passavano i come si chiamano i cavalieri e dicevo senti noi mettiamoci dietro perché così se cazza il piede a qualcuno il cavallo cazza quel davanti e noi che eravamo come ho detto prima tutti i bassi non vedevamo niente io vedevo scritto la madonna sul carro era il regime del terrore il pennacchio del cavallo e la madonna che meno male che stava in alto e poi diciamo altra cosa importantissima che è cambiato moltissimo ora erano i vastasi ah si cioè tu ma vuoi me chiesto sono tutti bravi ragazzi poi tenendo l'associazione un lago sono tutti bravi prima i vastasi facevano la stramata già come arrivavano ma tu te li ricordi che pieghiamo l'aricolo oh 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 mia nonna si cacava sotto la iosa la iosa facevano la iosa poi che succedeva quando si doveva strazzare il carro mica potevi stare là a strazzare no perché diceva mia nonna che ora arriva i vastasi farà bene che se la vado a mangiare aveva paura dei vastasi come se per tutto il resto dei giorni questi stavano chiusi in un diruppo le belbe feroci diciamo andiamocene che ora arrivano i vastasi allora avevamo le postazioni attendela 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 uè palomba che non vuoi che un giorno come stavamo là è scattata la bombola della bangarella una strage no fece un rumore brutto fece una fiammata allora mio nonno cadde si strazzò il pantalone che è quello che si metteva solo ai matrimoni e alla festa della bru partì il calendario diciamo no mio nonno non diceva il massimo era per la maiella solo questo uno strazzo al pantalone che ci è costato poi tutti gli altri giorni di pianto perché costava assai la strombo manca più non vi annunziata il simiccio niente più finita là la festa siamo rimasti come al due di lungo ma oggi la segui eh vabbè ma diciamo che da quando sto con il blu video la seguo passo 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 è tutto bellissimo è cambiata moltissimo ci mancano gli spari ci mancano le cose prima quando venivano che si erano bruciati la maglietta i capelli era festa ieri mi sono fatto tutto come dentro le magliette strazzate era bello ma si è strombo sono diventata tutto come mia nonna infatti tutti quanti precisini precisini allontanati dai fuochi non bisogna avvicinarsi questi fuochi non vanno rumore non vanno la fiamma che capro fanno questi fuochi scusate noi vogliamo il fuoco che ci deve bruciare ma vi posso interrompere un attimo ma tu puoi accomodarsi no più che accomodarmi io vorrei c'è gente fuori che sta aspettando Lia eh eh Lia facciamo eh facciamo fare ci facciamo fare andiamo 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 che vedi un applauso dalla nostra platea mamma mia quanti figli eccoli qua allora devi sapere che se tu vai a una a una a una a un ognuno di loro mi dice un fatto hola Lia hai visto vedi grazie grazie a tutto proprio te lo porti ma fa uno soltanto scusa no no grazie a sa grazie via a gradire come si dice ma mi metto dentro bello in un angolino tanto me ne ho fatto fin quando non mi sono finito a sfazione a sfazione è buono è buono il profumo è buonissimo l'hai assaggiato tu il profumo l'ho assaggiato prima Lia noi atleti tu lo sai ne approfittiamo solitamente prima di iniziare a mangiare io volevo far ascoltare a loro anche per salutarti che poi tu sei così incontenibile sei spettacolare nella tua energia però hai scritto una preghiera bellissima dedicata alla Madonna della Bruna che Blue Video ha utilizzato come dire in un filmato realizzato per la festa della Bruna di qualche anno fa 2017 se non sbaglio 2017 ed è una preghiera che hai scritto tu io sono Madonna La Forte la Madonna non me la devono toccare ciò che è giusto è amore come tutti i materani immagino e allora dal lato quello spiritoso al lato spirituale di Lia Tripisani che ringraziamo per la partecipazione e salutiamo con un applauso Lia grazie a tutti e viva Lia e viva Lia e buona festa della Bruna e viva Maria e viva Maria prima te lo dici previ tu me lo dico io ecco che abbiamo ascoltiamo allora guardiamo il contributo con questa preghiera scritta da Lia per la Madonna della Bruna guardiamo la tua madonna della Bruna capo tu mi stai buono tutte le due guardiamo la tua riscata vela una baina immutla la mena anche per tutte le sere fai la benedizione a tutto tuffa mucca e tenete apprezzata con queste fucche Ave Maria Madenna della Bruna guardiamo che la maritoia è piena è piena fai la razza fai la stebbana ammogga ammogga a buona cevana la mia in nel frattempo qui l'esterno della sede degli angeli del carro è diventata una vera e propria piazza con un pubblico di tutto rispetto al quale però adesso chiedo di ascoltare in silenzio questa storia perché è una storia bellissima di un gruppo di persone che tra il 70 e il 78 ha fatto quello che oggi fanno gli angeli del carro ovvero scortare il carro di Maria Santissima della Bruna stiamo parlando dei famosi gladiatori e c'è uno di loro che è venuto a trovarci stasera alla veneranda età di una novantina d'anni che è il mitico Cenzino Fabiano buonasera Cenzino avvicina il microfono avvicina il microfono buonasera buonasera a tutti facciamo un applauso a Cenzino che è un'istituzione ho già trovato la vita per i gladiatori raccontaci io ho detto dal 70 al 78 avete scortato il carro più o meno quelli sono gli anni come nacquero i gladiatori i gladiatori nascono dalla strada dal costile e avanti e indietro automaticamente io ho vissuto via Margherita e sono andato sempre appresso alla Madonna al carro a guardare il carro a fare il gladiatore da spazio per 20 anni 30 anni 40 anni sempre tutti gli anni e per sbaglio tengo dato una marciata di di pruscia a mio figlio a ordino il grande e non non so come ringraziare il Signore adesso sento che non ti fa è un peccato è un peccato che anche come anziano non vado più perché non ce la faccio c'è lo spirito c'è la gloria di andare sempre a Pietro però io dico all'autorità perché si deve togliere questa festa dei gladiatori è un peccato è un gioccivedio perché è nato da tanti anni dai nonni dei bisnonni non lo so come voglio esprimermi che io mi venga a piangere perché mi dispiace mi dispiace veramente perché cosa che la festa non ci fate i gladiatori ah ma ci sono però ci sono gli angeli del carro adesso vogliamo i gladiatori quindi il ritorno diventano gladiatori gladiatori del carro no diventano gladiatori per loro come sono diventato io dalla strada senti Censino io voglio dare però la parola anche a Adriano ed Enea Cristallo che sono gli eredi del fondatore dei gladiatori che era un tuo grande amico sì io lo so il padre era un signore Adriano raccontaci tuo padre tuo padre ha buonasera a tutti ha fondato il corpo dei gladiatori che ha scortato poi il carro della bruna negli anni in cui parlavo prima sì 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 allora praticamente dietro la storia dei gladiatori in realtà c'è una a mio parere una storia bellissima e nasce proprio dai sassi dai sassi dove questa gente in realtà era gente umilissima che facevano i pastori mio padre ha fatto il carbone giù nelle gravine mi ha insegnato molti sentieri e io sono anche una guida escursionistica e ho sfruttato i sentieri che mi ha insegnato mio padre quando era quando mi ha descritto questi tratturi nel parco della Murgia poi ha fatto il pastore e poi hanno fatto i facchini era gente di lavoro cioè gente che conosceva lo spirito del sacrificio è tutta gente onestissima molto molto onesta la cosa bella del gruppo dei gladiatori che comunque ha creato mio padre questo gruppo tant'è vero che anche a noi ha dato dei nomi abbastanza coloriti noi figli Enea Achille Adriano quindi un po' eroici la cosa che a me è piaciuta sempre di mio padre è che la festa l'ha fatta partire da spine bianche uno dei primi quartieri popolari dall'uscita dei sassi e la festa era del popolo la cosa che a me piace tantissimo è che i ragazzi degli angeli del carro come Mariano e gli altri stanno riprendendo questa tradizione e quindi di gente che ci crede veramente alla festa quindi alla difesa del carro così come aspetta di essere perché abbiamo avuto diciamo un blackout per un po' di anni però da questo blackout a loro ora mi piace proprio quello che la piega che sta prendendo la festa grazie ai ragazzi degli angeli del carro grazie Adriano Enea una battuta anche con te c'era una divisa d'ordinanza guarda l'evoluzione più grande è stata quella di dopo 50 anni uscire di nuovo la divisa di mio padre non la immaginavo minimamente ringrazio Mariano tutti Mimo Duca tutti gli angeli del carro la cosa che vorrei veramente a cuore come Mariano ha sempre detto quella di di ritornare con i gladiatori perché è veramente gente che ci tiene ci tiene con tutto il cuore una cosa che mi diceva sempre mio padre per gli spiriti di ragazzi che si prestano a vendarsi sul carro quando si ha una discussione con gli angeli del carro con chi protegge le questioni della Bruna finiscono la sera della Bruna quindi è tutta una festa assolutamente come dire questo prego lei ha una domanda mi scusi mi scusi se mi sono permesso di fare il suo lavoro prego dica pure allora una domanda ho provato prima con il suo collega però non è andata molto bene lei anche lei un curo della festa intervista figure importanti però io ho delle domande per lei perché io mi aspetto che lei lo sappia mette su un programma per esempio chi c'era prima dei gladiatori e a cosa si è ispirato il vestito dei gladiatori e come vivevano la giornata i gladiatori il 2 luglio sì però una una alla volta cioè nel senso allora chi c'era prima dei gladiatori come si vestivano a chi si è ispirato il vestito e come vivevano il 2 luglio nell'attesa del loro momento glielo chiedo subito si figuri si figuri spero di poterle rispondere visto che abbiamo qui i testimoni di quelle voglielo sì assolutamente ma chi scortava prima dei gladiatori il carro la popolazione la popolazione la popolazione c'erano quattro carabinieri dopo ci siamo anticipati e basta e quindi il 2 luglio lo trascorrevate tutti insieme tutti insieme e andavamo a mangiare a Porcari a Villa Irene Villa Irene mangiavamo e poi si ballava era capace perché ci siamo ma facciamo la popolazione noi facciamo la popolazione tempi gloriosi allora direi a questo punto però di chiudere in bellezza chiamando Mariano Iacovone e Mimmo Duca degli angeli del carro perché credo che questo per voi sia un momento fantastico una soddisfazione immensa guarda specialmente a tenere il signore con noi grazie grazie mi ha fatto un'emozione quando l'ho visto è entrato dentro ha guardato la casacca di chi era il suo presidente si è messa a piangere è una cosa è immensa è una cosa incredibile che non ti può domani un ragazzo vede una cosa del genere ma posso immaginare è così è così e avete una grande eredità Mimmo grazie questa divisa che c'è all'interno è come un enorme tesoro uno scrigno che contiene storie siamo veramente orgogliosi di questo regalo che ci hanno fatto questi signori qua siamo fieri di avervi qui come ospiti e li ringraziamo veramente col cuore da parte di tutti i ragazzi degli angeli del carro grazie voglio fare un ringraziamento ti voglio ringraziare perché mi hanno regalato il filipino del papà ed è stata una cosa ragazzi è immensa non c'è valore a queste situazioni tra materali ci possiamo capire grazie a te Mariano ho riuscito la divisa di mio padre perché non sapevo non immaginavo minimamente di uscire la divisa dopo 50 anni tutte le mattine passavo dalla piazza e andavo a prendere il caffè il padre io e lui io andavo al macello io andavo a mercato grazie grazie a Censino Fabiano grazie ad Adriano ed Enea Cristallo grazie ancora a voi ragazzi e adesso abbiamo un po' di musica che ci ricorda la festa la bassa musica della città di Montescaglioso bravo grazie a te grazie a te grazie a te una mano porta porta Angeli 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 De Carlo noi siamo Angeli De Carlo Angeli 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 De Carlo noi siamo Angeli De Carlo ciao a tutti mi chiamo Emanuele Andrisani ho 46 anni sono originario di Matera però ormai a Londra da da 18 anni qui a Londra lavoro lavoro nel mondo degli alberghi infatti sono sono led concierge in un albergo qui nel centro di Londra che si chiama il Groven House Sweets il mio legame con la festa della Bruna è un legame viscerale è un legame profondo quando si avvicina la settimana della festa della Bruna anche se necessariamente non non ci penso il mio pensiero non è diretto la festa della Bruna all'interno comincia il bollore nello stomaco nella testa è è forte il legame è forte la festa della Bruna è uno stato d'animo mi manca l'entusiasmo mi manca quel senso di attesa mi manca quel fatto di spostarsi da una parte all'altra ok andiamo dal generale poi la cavalcata poi a Piccianello e poi alle 5 sotto casa del generale poi ti muovi all'uscita del carro e poi fai partire la cavalcata e poi devi appiazzare a piazza Vittorio Veneto per lo strazzo insomma tutte queste questo schedule che chiaramente poi gare a casa il pranzo di famiglia con la pasta al forno e l'agnello il caldo quest'anno ritorno e chiaramente non vedo l'ora non vedo l'ora di viverla i sapori gli odori e le sensazioni incontrare tutti gli amici stiamo arrivando stiamo arrivando tra i cartapestai che hanno lavorato sui carri della Bruna negli ultimi anni il più giovane è stato sicuramente Uccio Santo Chirico che è venuto a trovarci stasera qui nella sede degli Angeli del Carro insieme a due amici che sono Niccolo Montemurro e Massimo Matera perché ci parlerà del laboratorio artistico solidale della cooperativa oltre l'arte buonasera Uccio buonasera Sergio e grazie per l'invito senti io non credo di aver detto Fandonie nel dire che sei stato uno dei più giovani ad aver realizzato il carro almeno negli ultimi anni negli ultimi anni sicuramente sì 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 tra l'altro sei sicuramente testimone e protagonista di un evento storico perché è un carro che è rimasto a riposo per qualche anno eh sì dopo la seconda guerra mondiale infatti il carro che abbiamo realizzato insieme a Massimo Nicola e gli altri ragazzi è stato quello che è stato dovuto si è dovuto fermare per più tempo infatti l'abbiamo vinto nel 2020 e poi il carro è sfilato il 2 luglio del 2022 insomma due anni che si sono resi necessari per uscire dalla pandemia non vogliamo nemmeno ricordarli però appunto era un evento un dato curioso diciamo così che sicuramente farà farà storia e storiografia invece con sono stati loro tra l'altro ad aiutarti lo hai detto lo hai detto anche tu invece con loro la tua esperienza è proseguita perché è nata da quella da quella operazione di realizzazione del carro della Bruna un qualcosa di molto più duraturo sì in realtà stava nascendo proprio in quel periodo grazie al lavoro che facevamo con Nicolò nei Sassi con Oltre l'Arte e diciamo il carro è stata subito un'esplosione di questa esperienza perché abbiamo in maniera sistematica continuato a fare cartapesta e a lavorare con la terracotta quindi dalle cose più piccole dalle calamite ai progetti più grandi tipo i Morales e poi il carro è stato sicuramente l'esperienza più bella e più grande che abbiamo fatto e la cosa bella come dicevi tu Sergio è che continua grazie appunto Oltre l'Arte al laboratorio di artigianato solidale riusciamo a intercettare attraverso l'artigianato un fabbisogno nella comunità che è sempre più importante e sempre crescente vengono tanti turisti tanti ragazzi che dalle scuole con il turismo scolastico vengono a fare percorsi dove appunto Massimo e Niccolò che stasera sono in rappresentanza degli altri ragazzi sono nove ragazzi insegnano a fare artigianato arte e soprattutto lavoriamo molto sulle relazioni quindi l'inclusione sociale è una leva per noi molto importante così come l'arte per portare avanti le tradizioni Niccolò quanto ti piace essere docente in questi corsi? E allora ma secondo me sì in realtà io non so parole sì è una cosa bellissima sì esatto e cos'è che ti piace fare di più raccontare di più insegnare di più allora e mi piace e da grande e vorrei fare il direttore di laboratorio Rio artigianato solidale solo quello è la mia passione vuoi lavorare nel mondo dell'arte e questo è bellissimo confermo confermo Niccolò si spende un sacco poi ha talento molto molto talento e poi diciamo cura molto le relazioni Niccolò Massimo è bravissimo a lavorare la carta pesta quindi Massimo tu sei un futuro carta pestaio o già carta pestaio sì ogni giorno ti piace ti piace sì mi piace fare la carta pesta abbiamo fatto tante belle cose insieme con Uccio abbiamo fatto gli angioletti la cupola diciamo quasi tutto diciamo della festa che cos'è che ti piace di più della festa della Bruna c'è la processione dei pastori ah ok quindi ti svegli presto no vai alla processione dei pastori ti svegli all'alba sì sì ah ok Niccolò raccontami a te invece cosa piace la festa allora ma diciamo la verità ma mi piace tutto tutto tutta la festa tu ti alzi da mattina presto e poi a dormire esattamente sì la processione dei pastori poi c'è i cavalieri il monsignor Cagliasso e poi c'è la carota triunfale Uccio credo che questa come dire l'esperienza di fare un carro della Bruna tra l'altro in giovane età sia una cosa che non non andrà più via diciamo nell'album dei ricordi ma forse questo è ancora più appagante tutto questo sì diciamo è stato bello perché personalmente ho realizzato un sogno di quando ero bambino quando a Città 2000 organizzavamo le feste della Brunette ma poi è stato bello perché abbiamo raccontato come anche negli altri anni si raccontano esperienze legate al carro della costruzione del carro della Bruna in particolare legato al fatto che abbiamo valorizzato l'inclusione sociale ma poi soprattutto crediamo che le nuove generazioni possono fare la differenza nella nostra città fanno già la differenza nella nostra città sia a livello associativo ma anche a livello di organizzazioni terzo settore e non solo ed è bello perché leggemo questo fermento e anche la festa è giusto che respiri negli anni nel tramandare delle tradizioni questo fermento che ci aiuta a tenerle vive e a pensarle sempre nuove e più belle come vuole il detto belle bellissime come le tue parole Uccio grazie a voi grazie a te grazie a Niccolò e grazie a Massimo Gabriele Saverio compagni di avventura no compagni di avventura ma soprattutto insomma abbiamo fatto una serata bella tantissime persone adesso abbiamo il gruppo dal vivo ma come è andata io credo che sia commenti a caldo ma voi stavate fuori dite voi come è andata io credo da fuori da dentro sentivo un bel movimento c'è stato un gran bel movimento ci hanno raggiunto tantissime persone e stasera era la prima sera domani sera ce ne saranno ancora di più anche perché gli angeli del caro sono pronti con la loro come dico la loro carbonella attivissima Fornacella attivista Fornacella che ha lavorato tutto il tempo domani sera andiamo ad intervistarli quindi restate incollati sui canali di Basilicata Media ma di cosa parliamo domani? domani è il giorno dei cavalieri ragazzi domani è il giorno dei cavalieri quindi aspettiamoci quindi non verrò con i muli ma poi i cavalli vado i cavalli va bene va bene allora diamo spazio alla musica però andiamo a salutare ma certo andiamo a salutare facciamo un'intervista ti lascio il microfono Gabriele è per te c'è questa band che stasera ci sta regalando allegria allegria e allegria e allora Fra Giamparide ci presenti questi ragazzi meravigliosi? sì sono alcuni della Fratelli Tutti Band c'è Paolo Giambito Pietro ragazzi che di solito trovate al centro di Matera per animare la piazza e per vivere la nostra ma io forse vi ho visto sotto i tre archi può darsi può darsi allora eravate voi eravate voi in piazza Vittorio Veneto insomma l'obiettivo è sempre quello diffondere gioia sì vivere una fraternità e animare il nostro territorio attraverso la musica e allora come diciamo di solito musica ragazzi musica maestri a questo punto e noi ci ritroviamo domani mentre vi salutiamo con i fratelli tutti musica maestri 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 come fa come fa la voce tu fa l'americano, americano, americano, ma sta meglio il tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se vieni, qui scherzo là, poi te senti di stupà, tu ha ballo, rock and roll, tu giochi a baseball, ma hai soldi per cammell, qui te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si data in pata era, se da me non c'è sta nemmeno a fa, ok, ma te la tu fa l'america, tu fa l'america, we scherzo là, rock and roll, we scherzo là, rock and roll, we scherzo là, rock and roll. Grazie a tutti.